Vittoria importante per la Promo Sport di Lavezia contro un'Acri che è reddice dalla seconda sconfitta consecutiva dopo quella di domenica scorsa contro il Sant'Agata. Una partita importante per i giocatori di casa che dovevano cercare di rimettersi fuori dalla zona bassa della classifica e poteva farlo solo battendo una grande. Un'Acri che certamente spera di poter rientrare nelle zone alte della classifica per poter lottare per il rientro nell'eccellenza nel campionato che conta essendo una retrocessa. Il gol al 42esimo di Postorini ha messo invece la squadra di casa nelle condizioni di poter controllare nel secondo tempo le vicende della partita e riuscire a portare a termine un risultato, un 1-0 davvero importante per la propria classifica.